Ragazzi, domani andiamo al mare, eh? Veramente? Ma perché? Che abbiamo fatto da male? Oh, no, non cominciate, eh. Io domani c'ho un giorno libero e Armare ce voglio andare. Io ci sto. E vabbè, dai, apparecchiamo questa via Crucis. Allora, l'appuntamento è per le sei e mezza sotto casa mia. Ma di pomeriggio? Ma che è di pomeriggio di mattina? Oh, guarda che l'acqua nel mare già c'è. E mica ce la dobbiamo mettere noi. Ma che c'entra, cretino? È per non trovare casino, no? Ho capito, ma le sei e mezza non è che non trovi casino. Non trovi neanche Armagnino. Do a finire che dobbiamo aiutarlo a sistemare gli ombrelloni. Oh, da che mondo è il mondo? Armare ce se va presto. Perché? Perché il mattino ha l'oro in bocca. Più che l'oro in bocca, mi pare di dar culo. E vabbè, vabbè, ho capito, partiamo più tardi. Alle nove va bene? Per me va bene. Vabbè, e dove andiamo? Io avevo pensato di andare alla spiaggia libera, così risparmiamo. Giusto. Ma siamo sicuri? Sì, quindi ognuno di noi si deve portare a asciugamano. Poi due di noi portano un ombrellone per uno e uno deve portare a sdraietta. Giusto. Ma siamo sicuri? Sì, poi dobbiamo portare da mangiare. Ma perché non sta sta spiaggia nel deserto per gobbi? Perché? È sceso da un bar, no? Sì, vabbè, o sai quanto devo fanno pagare un panino questi? È meglio non rischiare. Giusto. Ma siamo sicuri? Sì, io porto i panini, tu porti da beve e tu porti un po' di schifezze. Va bene. E poi racchettoni e pallone, sì, volevamo portare? Oh, 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 ma stiamo in armare o stiamo a fare un trasloco? Ho capito, ma è per risparmiare. Vabbè risparmiare, ma per non spanno questi 50 euro me sta a fare un bucio che il giorno dopo me dobbia due giorni di ferie per i piammi. E mannaggino. Sei il solito esagerato. Ma che esagerata? Sveglia e sei, preparate il planzo, gara che ha la macchina. Questo non è un giorno di mare, è il turno al cantiere. Porca paletta affaticata. E allora che volevamo fa? Volemo andare allo stabilimento? Ma sì, godiamoci la vita, porco schifo. Dai, se cominciai a ragionare. I lettini e l'ombrellone dove li prendiamo? Davanti? No, davanti ci stanno i ragazzini. E vabbè, che te fanno, porre creature? Porre creature? I ragazzini armali so come in battaglione degli scong che le formiche rosse ne è mutante. Corono, strillano e rischiano la vita. Allora se mettemo dietro. No, dietro fa troppo caldo. Allora se mettemo in mezzo. Ma che sta matto? Perché? Perché se sta metto in mezzo c'è almeno quattro vicini d'ombrellone. E vabbè, che fastidio te danno, scusa. Che fastidio te danno? Uno se sente la musica a tutto volume. Porca paletta amplificata. Uno se incazza perché gli se sveglia la ragazzina. Porca paletta addormentata. Uno parla a telefonata a voce e fa sapere a tutta il ritorale che furbi ha perso il lavoro perché si è giucciato il marito dalla collega. Porca paletta insalivata. E un altro è una comitiva dei palestrati che ridono ancora e se spalmano l'olio a vicenda che visti da fuori parano la parodia del porno ogni 80. Porca paletta scivolosa. Ho capito, davanti no. Dietro no. In mezzo no. Dove se dovemo mette? A casa sul divano che io già me so stufato. Vabbè, ma non mi sembrano cose insopportabili. Sì, ma poi c'è sta quello che te passa vicino con l'enfratido che raccoglie la sabbia tipo catapurta e te sotterra tipo anfora etrusca. Poi c'è sta quello che l'enfratido se l'ha scordata e che per non scordasse te sarta sull'ombra tua all'improvviso mentre stai a dormire. Che poi le dice pure scusi, eh. Ma che scusi a Jimmy Canguro. Ma sì, te levi dei passaggi dei gengivi che i racchettoni. Poi voglio vedere se ti ricordi che ce l'ho fatta la prossima volta. O vedi, sei al solito esagerato. Poi c'è quello del coco. E poi quello dei costumi. E poi quello delle collanine. Poi la signora cinese che non capisci mai se te sta bene il massaggio o una pippa. E poi soprattutto c'è... Che? Il reggaeton! Oh, e basta! Guarda che se non ce l'ho da andare a armare, basta dirlo, è ce l'ho da solo. Oh, e ce l'ho potevi di prima. No, io al mare ci devo venire per forza. Perché? Perché ho conosciuto una ragazza. Ma dove? Allo stabilimento. Ma dai, e com'è? Un po' costoso, ma molto pulito. Ma come è lo stabilimento? Come è la ragazza? Ah, la ragazza è bellissima. Mi ha un po' fissata con l'abbrozzatura. Infatti ci siamo conosciuti perché mi ha chiesto di spalmarle la crema. Guarda, eh! Non cominciare tu. Poi? Poi, mentre le spalmavo la crema, lei ha detto di iniziare a sentire qualcosa che le saliva da dentro. Ma tipo virus intestinale? Guarda che gira sto periodo, eh! Ma te stai zitto? Che gli saliva, scusa? Le salita la voglia! Di che? Bocca mia statta e zitta. Vabbè. Poi? Mi ha detto che nessuno le aveva mai spalmato la crema come me. Guarda, eh! Sta buono. E poi? Allora mi ha detto di entrare con lei in mare. E? E una volta nell'acqua mi ha tolto il costume e mi è saltato addosso. Ma sei sicuro che ne era un turno? Falla finita. Poi? Poi abbiamo provato a farlo, ma l'acqua del mare era gelata e qualcosa non ha funzionato. È una questione fisica, è la legge del randazzo. E cioè? Che più l'acqua è fredda, più è piccolo il ca... Ma lo smetti! Sì, e quindi poi che avete fatto? Siamo usciti dall'acqua, si è fatta rispalmare la crema per entrare un po' nel mood e poi siamo andati alle docce. Guarda, eh! Finiscila. Poi? Abbiamo aperto l'acqua, ma era più fredda di quella del mare e anche lì qualcosa non ha funzionato. È la legge del randello. E sarebbe? Che se l'acqua è gelata, si ritira il pisello. Ma che solda è legge, ti stai a inventare? Eppure voi non potevate annare le docce con l'acqua a carta. L'abbiamo fatto. Sono andato al parro a prendere i gettoni, ma non avevano il resto perché io stavo con 50 euro sani. E quindi? E quindi ho preso 50 gettoni. È sempre così, se inizia con la scopata e se finisce con mutuo. Fate zitto. E quindi? E quindi siamo andati alle docce calde, ma prima si è fatta rispalmare la crema. Un tubetto al giorno io ci volo a questa. Vabbè, poi? Poi abbiamo aperto le docce calde, ho messo il gettone ma l'acqua calda durava soltanto 30 secondi. Guarda, eh! Fala finita. E quindi? E quindi ho messo 50 gettoni tutti insieme per avere le mani libere. Guarda, eh! Zitto! Bravo, ha fatto bene. Poi? A quel punto lei si è girata e mi ha detto di prenderla forte per i fianchi. Guarda! Gettila! E poi? Gli ho fatto come diceva lei, le ho messo le mani sui fianchi e l'ho stretta fortissimo. Guarda! Basta! E poi? E poi appena l'ho stretta con tutta la crema che ci aveva addosso mi è partita sul muro tipo frisbee. E quindi? E quindi l'hanno ricoverata per trauma cranico! E' vero che per ragazze l'importante è la testa, ma cos'è un po' eccessivo? Ma non l'ho fatta apposta! Vabbè, ma non potevi far più piano. Ho capito, ma dopo un tubetto di crema quella nera era una ragazza, era un'anguilla. Infatti, per portarle in ambulanza l'hanno dovuto avvolgere col domopack. Vabbè, dai, almeno te si conserva meglio. Smettila! Vabbè, quindi basta, lasci perdere. Come lascio perdere? Pure stavolta? Guarda, o lasci perdere o gli avviti tu manici. Ma come gli avvito, scusa? Appunto, lascia perdere da meretta. E quindi adesso? Io posso dire! Meglio di no! Me vi è un po' da piangere!